La Giunta Comunale di Cremona, nella riunione di mercoledì 5 luglio, ha emesso un atto di indirizzo che richiede di dimezzare le polveri emesse dall'inceneritore. L'autorizzazione integrata ambientale, che stabilisce quali obblighi deve rispettare il funzionamento dell'impianto, infatti è scaduta dopo i cinque anni previsti e il suo rinnovo deve essere riesaminato. Mercoledì mattina si riunirà in regione la Conferenza dei Servizi, che deciderà, forse il giorno stesso, rinnovo e prescrizioni. La Giunta Calimberti, su proposta dell'assessore Alessia Manfredini, chiede limiti più restrittivi, da 10 a 5 microgrammi, dato che Cremona si trova nella zona critica fascia 1, nel 2016 ha superato la soglia per le polveri in 54 giorni e inoltre altre industrie a Cremona si sono già viste applicare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla legge. Lo stesso criterio, dunque, se sarà accolta la proposta del Comune, varrà in località San Rocco. Sembra quindi una velata critica ai limiti, i posti nel 2012 troppo elevati e ora da ridurre. La delibera mostra poi un forte allineamento tra l'amministrazione e LGH. Infatti, la Giunta mette nero su bianco, che nel tempo la necessità per il territorio di avere un impianto di smaltimento indifferenziato diventa sempre più ridotta, e che è probabile che anche a livello regionale l'incenerimento, visti gli indirizzi europei, sia sempre meno necessario. La raccolta differenziata è stata estesa, rafforzata col sistema porta-porta ed è arrivata al 72%. E LGH, da parte propria, ha scritto una lettera alla Regione, pervenuta il 26 giugno, in cui l'azienda si dichiarà disposta a chiudere l'inceneritore nel 2024, in anticipo di 5 anni rispetto alla scadenza resa possibile dallo sblocca Italia. Entra in gioco la promessa fatta in campagna elettorale dal sindaco Galimberti di dismissione in 3 anni, con un piano industriale. Ed ecco LGH, per alcune condizioni, che si individui un percorso di chiusura dell'inceneritore, rendendo efficiente la gestione dei rifiuti, garantendo il recupero energetico e il servizio di teleriscaldamento. La Giunta dichiara la propria piena sintonia con LGH e prepara un tavolo di lavoro comune. La Regione, da parte propria, nello stesso giorno in cui ha ricevuto la lettera di LGH, ha prorogato la conferenza dei servizi dal 26 giugno a dopodomani. A Cremona, intanto, prosegue il cammino verso la tariffa puntuale. Al Boschetto e al Migliaro sono in distribuzione le lettere ai 3.000 residenti, poiché da settembre partirà la sperimentazione del metodo di misurazione puntuale del secco, come annunciato durante l'ultima assemblea di quartiere.